Buongiorno ragazzi! Stamattina ci troviamo a San Agustin, andremo a vedere ben due proprietà. Una, ancora non l'abbiamo affittata, è un duplex su due livelli, qui siamo vicinissimi al mare, attraversando questa strada c'è Playa de la Sburras, quindi il primo lo affittiamo sempre per il periodo invernale a 900 euro con tutto incluso ed è una proprietà su due livelli. E il secondo dopo lo scopriremo. Buongiorno ragazzi! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.